partita la prima batteria semifinale ragazzi femmine 3000 punti 17 giri la prima campana suona a meno 15 e assegna i primi punti la prima campana suona a meno 15 e assegna i primi punti la prima campana suona a meno 15 e assegna i primi punti sono stati assegnati alla 96 e alla 242 150 e 151 campana del meno 11 il ritmo sta aumentando all'inizio la gara era partita in modo un po' tattico adesso appunto le tre che stanno accenerando perché non vogliono perdere nemmeno un punto di questa gara mancano 10 giri 3,650 1,280 1,280 2,180 1,280 3,080 2,180 3,100 3,180 4,180 Sì, c'è il dosso, 137. 137. Vai, Nani, che vai! Ecco la campana del meno 7, il gruppo si sta decompattando, anche se in testa le atlete rimangono ancora abbastanza vicine, però c'è molto movimento, anche perché adesso si assegnano i punti, quindi è molto importante rimanere in testa. 150, 151. Ecco la campana del meno 5. Molto ricambio in testa al gruppo, quindi adesso vedremo a chi verranno assegnati questi punti. 250, 96. Ecco la campana del meno 3, ci stiamo avviando verso la fine. C'è qualche atleta che prova ad allungare in testa al gruppo, vedremo come saranno poi le posizioni finali. 481, 250. 50. Ecco la campana dell'ultimo giro, all'arrivo i punti verranno assegnati ai primi 3, quindi importantissime le posizioni che le tre occuperanno quando taglieranno il traguardo. 68, 326, 150. Un applauso per questi ragazzi. Ecco partita la terza batteria della semifinale ragazzi femmine e 3.000 punti. con Clementoni Sofia, Bailo Asia, Poli Elisa, Gino Di Gloria, Cicalò Maria Sole, Ghevara Sanchez, Racheleiri, Sessa Greta, Benigni Sara, Tacconelli Erika, Polata Alessandra, Gatti Sara, Chiumento Sottia Paola, Facco Gaia, Mezzanotte Sicilia, Campitelli Giorgia, Corradini. Anche per loro, come per le altre 17 giri, la prima di Ospana suona a meno 15 e vengono assegnati i punti ai giri pari alle prime due atlete che transitano sul traguardo. Ecco la campana del meno 15, quindi adesso subito con attenzione altissima perché al prossimo giro vengono assegnati i punti. Ammonita la numero 243. Ecco che adesso vengono assegnati i punti. 325, 254. Ecco la campana del meno 13, queste batterie di atlete sono molto agguerrite, stanno subito andando a un ritmo molto veloce. Il gruppo si sta sfilacciando in testa con alcuni atleti che tentano di allungare già in questa prima parte di ara. Vedremo se reggeranno il ritmo fino alla fine. 193, 62. La campana del meno 15, si allunga e si ricompassa a seconda dei movimenti che si creano all'interno. 325, 62. Ma non è bella! 325, 62! Ma non è bella! Ma non è bella! Giri! Giri! 193.327 e questa è la campana del meno 7 quindi adesso verranno segnati i punti con il gruppo che si allunga sempre di più perché ci sono anche dei atleti che stanno partendo 62.325 intanto per i punti ecco la campana del meno 5 193.142 ecco la campana del meno 3 al prossimo giro quindi verranno assegnati i punti alle prime due atleti poi all'arrivo alle prime tre atleti quindi adesso è importantissimo non mollare 327.325 ecco la campana dell'ultimo giro quindi nel prossimo giro c'è l'arrivo adesso è assolutamente fondamentale andare tre settimane all'arrivo senza ritenziamento 193.325.62 un applauso per queste ragazze che poi rivedremo anche per la finale della 3.020